Un messaggio ai bambini che stanno vivendo la quaresima a casa senza poter andare a messa né a catechismo. È questo il contenuto che i frati Cappuccini di Vigevano hanno divulgato via social, un invito alla speranza in attesa che si possa tornare alla vita di comunità così particolarmente sentita da chi frequenta il Gifra. Ciao ragazzi, siamo ancora vivi. Non vediamo l'ora di vedere anche voi, solo che siamo chiusi in casa. Allora io parlo ai bambini, l'anno scorso questa madonnina era sulla barca e ci ha condotti per tutta la quaresima, quest'anno avevamo preparato un bel deserto dove i bambini, voi bambini dovevate fare fiorire il deserto con i fiorenti e invece tutto è nato a monte, però sono sicuro che anche senza di noi vi state preparando bene alla Pasqua. Sentiamo la vostra mancanza come voi certamente sentite la nostra. Noi vi ricordiamo sempre delle nostre messe. Volevo insediarmi qualcosina in più sulla celebrazione della Messa, ma sarà per settembre. Hanno rimandato i giochi olimpici, rimandiamo anche gli insegnamenti e i ricchecchi. È vero. Comunque bambini, non scoraggiatevi, chiediamoci del Signore, torneranno le messe delle 10 e mezzo, delle 11 e mezzo, le prove dei canti, il catechismo, tutto ritornerà come prima. Forza. Tutto andrà bene, o meglio, tutto andrà meglio. Meglio. Ciao bambini. Ciao. Ciao. Ciao.